Diciamo che io ho avuto tante opportunità di visitare la Cina anche e di seguire la grande trasformazione della Cina che nel corso di un periodo di tempo molto breve ha compiuto uno straordinario salto verso la modernità, verso il progresso che sicuramente è il grande merito storico del Partito Comunista Cinese. Credo è molto importante sviluppare tutte le forme di dialogo, di collaborazione, non solo tra i partiti, ma tra le società civili, tra le associazioni culturali, intellettuali, personalità diverse, eccetera. sarebbe molto negativo se si tornasse ad una chiusura reciproca.